Allora il 12 aprile dobbiamo venire tutti quanti a Comun Come mai? Ma tutti, tuttissimi Da tutta la Spizzera Sì, Spizzera, Italia, Cile, a Cile Tutto, tutto il mondo Semplicemente per Moto Musica Insieme Moto Musica Insieme che sarà un evento a Villa Erba Il prossimo 12 aprile È una location stupenda con cui avremo il piacere Aspetta, ma Francesco, ma tu ci sarai? Ah, ci sono anch'io? Ma tu ci sarai? Ma ci sono anch'io? Allora, ma ci sarai anche inoltre anche Davide Vandesploss Abbiamo la fortuna di avere altri ospiti d'eccezione Però ora io direi, ci riserviamo di augurarvi la presenza E che dire, un bel saluto Un bel saluto, ripetiamo, mi raccomando, la data precisa Domenica 12 aprile A che ora? Io direi alle 14 tutta Italia a Villa Erba Mi raccomando, ci vediamo a Villa Erba Ciao, ciao, ciao Non è a Erba, è a Villa A Villa Erba, è a Villa Ciao, ciao, ciao